ben ritrovati anche questa settimana le news dalla camera di commercio sono sempre giornate piene di iniziative per le imprese in particolare sul versante dell'aggiornamento iniziamo dal primo appuntamento quello di giovedì giovedì 29 con inizio alle 9 del mattino malpensa fiere di busto al sizio prende infatti il via il ciclo di seminari per operare correttamente sui temi decisivi anche per la competitività dell'impresa dell'ambiente percorsi ambientali questo il titolo di un ciclo come dicevamo di seminari di approfondimenti curati dalla camera di commercio e in modo particolare giovedì giovedì 29 si parlerà di autorizzazioni ambientali via aia aua procedure impatti indicazioni alla luce delle più recenti novità legislative cambiamo argomento anche se rimaniamo in tema di incontri di aggiornamento per le imprese questa volta sul versante altrettanto importante dell'export sub fornitura meccanica e mercato tedesco se ne parlerà il 7 ottobre alla centro congressi villeponti con l'occasione di approfondimenti ma anche di incontri business to business per le aziende della provincia di Varese con imprese tedesche che saranno presenti sul nostro territorio vi ricordo ancora sub fornitura meccanica e mercato tedesco il 7 ottobre con inizio alle 9 al centro congressi villeponti di Varese bene è tutto per questa settimana vi devo soltanto ricordare che ogni informazione comprese anche le modalità di iscrizione e seminari a cui abbiamo accennato sono sul sito della camera di commercio all'indirizzo www.va.com. È tutto per questa settimana grazie di nuovo per l'attenzione www.va.com. È tutto per questa settimana grazie di nuovo per l'attenzione